Everybody make it bow! Il video per vedere sono le sette e mezza di mattina e quindi non potrò purtroppo cioè per piccole ragioni che sarò impegnato tutto il giorno cioè già da stamattina sarò impegnato fino a stasera quindi non potrò fare il video durante il giorno e quindi lo farò di queste ore e purtroppo dovrò tenere anche la voce un po' bassa perché visto che è abbastanza presto purtroppo dovrò tenere, dovrò stare un po' calmo e quindi per questa parte non ci sarà la musica però dalla prossima parte ci sarà comunque la musica di sottofondo le solite tre canzoni, tre, quattro canzoni che vi hanno accompagnato in questi primi video da cui ho voluto da cui ho voluto metterla allora prima provando delle registrazioni ho notato che prima mi si bloccava il gioco in alcuni posti adesso vi faccio vedere che in questa parte andremo ad esplorare un po' a Marantopoli e i dintorni e adesso sperando che non mi si blocchi il gioco adesso lo so sperando che non mi si blocchi perchè perchè sennò ok no perchè prima qui quando battevo il pokemon si bloccava il gioco non so perchè ok ragazzi si allora allora ci servirà ci servirà tanto ci servirà tanto allora poi c'era da andare in questa casa qua e ci danno uno strumento base e ci danno uno strumento base ok ah scusate ho appena fatto colazione poi andiamo qua a destra e andiamo più avanti di qua che ci sarà uno 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 che uscirà e boom ci viene andoso ma che pasticcio ho fatto volare un allenatore mi dispiace accetta questo per favore non piangere la mn04 ragazzi come prendere due macchine e una scozia senza fare un cazzo ok ok abbiamo trovato la mt65 intanto questo è il monte scodella grotta cascata grotta cascata all'interno ecco qua questo è il monte scodella che andremo in giro ad esplorarlo un po' anzi magari lo esploriamo adesso esploriamo un pochino ok abbiamo detto che questa parte è una parte tipo di esplorazione quindi non c'è nessun problema allora andiamo qui qua e troviamo un oggetto ecco questa sarebbe la la famosa cascata che quindi dovremmo venire dopo aver ottenuto la medaglia oh macio e che palle aspettate un attimo tanto c'ho qualche repellente ancora ah aspettate impariamo forza che dovrei dovrei già poterla utilizzare visto che ho la terza palestra vediamo un attimo allora ecco si dimentichiamo l'ucidatura si ok allora andiamo avanti un momento mica capito il vestire pelle l'ultimo nome oh ho trovato una ultra ball che bello lì intanto c'è una unesimo pokeball finito le repellente ecco anzi io sto andando a caso eh perchè diciamo che oh non ho più pinta buona eh stavo dicendo sto andando sto andando a cazzo perchè la grotta non l'ho mai fatta perchè un po' perchè non voleva un'altra ecco la scavaroccia mamma mia è molto piena di ecco ecco e adesso iniziano i pokemon perchè purtroppo ahimè non ho più uno strapezzo di repellente dovrò coprarmi un po' ok ok un allenatore che ha slow poke quindi perfetto per il nostro bad sprout che si evolve il whippy bell che bello è bello lì di dietro tanto 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 che palle però allora se di qua non si può passare e e e e madonna e no ragazzi credo che non si può proprio passare di principio perchè mi sa che ci serve scala roccia si ci servirà per forza scala roccia quindi boh quindi possiamo tranquillamente uscire da questa da questa da questa cosa ah aspetta prima c'è un allenatore qui orco 2 nido kid che c'hanno già i nido kid orco 2 orco 2 orco 2 oppure orca 2 visto che tutt'altro sto videoando senza volume probabilmente metterò la musica lo stesso quindi no è vero metterò la musica lo stesso anche tanto la vedrete la sentite solo voi un momento questo posto non lo sapevo io eh sì, fate un altro jet ho dato un antidoto eccolo qua no niente ragazzi serve per forza scala roccia per esplorare bene 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 all'infondo sto posto quindi per forza scala roccia a meno che non c'è qualche posto qua si può passare di qui ok raga ehm per dirla tutta allora intanto un po' di un po' di pokemon si ok va bene ho qualcosa di chiamo se non d'accordo ehm stavo dicendo la grotta questa grotta qua è molto utile anche per attraversare il posto e andare a montania che è una piccola città che ci servirà poi in seguito quindi quindi allora migliorino come mi piace ecco allora d ecco è d tutti gli evoluti questi allora ragazzi questa è Mogania non Mentagna scusate allora Mogania in poche parole in questa piccola città ci entreremo ci torneremo poi perché sarà il teatro della settima palestra ci siamo già nella città della settima palestra quindi ma vai a cagare va eh mini fungo pozione e pokeball ma va a cagare va ci tocca entrare nel mondo scodella per ritornare di là da Marantopoli e quindi i soldi stracazzo dei pokemon allora però passiamo di qui che è abbiamo tutti aspettate quanto sono arrivati 12 minuti e 50 posso fare su qui ma infatti ok sono arrivati siamo ritornati ad avarato ok ok allora allora facciamo imparare il surf anche al nostro crocodile così la potenza 95 già un po' come di livello 20 è tanto quindi ne diamo sto grafico che è inutile ok e ma adesso continuiamo nella storia e andiamo nell'attore porciato ok lì vedete lì sotto che ci sono la bellezza di tre pokemon leggendari Raikou Entei e Suikun allora ecco adesso c'è questo qui è un genius credo si chiami però non mi ricordo più che è sulle tracce di un po' che è chiamato Suikun e come si suol dire Suikun e proprio là sotto e boom quei tre pokemon lì andiamo questo qui è il capo palestra mi aveva capito che un genius è venuto a cittare su con l'occasione abbiamo fatto qualche ricerca su questa torre se in attichità da qua Marantopoli si trovano molte leggende su Entei Suikun e Raikou il capo palestra di sapere queste cose è il minimo ok adesso dobbiamo andare a battere il nostro rivale attenzione e lo battiamo senza problemi magne might resumat e prende le cose so ok possiamo imparare rotta poco Ok Ed andiamo sotto Ok E poi qua c'è C'è la torre Che c'è da continuare ad andarci in giro Ma adesso Sinceramente Credo che abbiamo già Sprecato un po' tanto tempo No Facciamo una esplorata La, come si dice Allora Scusate se tipo ovviamente parlo poco E a bassa voce ma perché Appunto come ho detto prima Sono le sette e mezza di mattina Anzi adesso sono le otto meno un quarto Ok Adesso dopo qui Il capo palestra è ritornato E quindi Si può andare tranquillamente a sfidarlo Allora Allora Andiamo al pokemon market Che adesso Eccolo qui Si però se ti muovi Eccolo qui Allora Super repellenti Prendiamo una Una ventina Visto che abbiamo i soldi Molto bene Molto bene Andiamo Allora Prima però Prima per avere un po' di Per avere tipo Qualche Vedere qualche pokemon serbatico strano Fate la potenza di Fate la potenza di No Ho bagliato Allora Grunite Vabbè Lascio questo Ok Ok Cermelion Bello Bello È morto Ok Ok PS su Inutile Sono cose che si possono vendere tranquillamente Prendere Un po' di soldini Ok Adesso possiamo tranquillamente usare i repellenti Spero di non metterci tantissimo Ok Tac Dobbiamo andar di sotto Ok Allora Fatemi un attimo Un attimo pensare Sì Dico Allora Le metti il 12 Provocazione Poi si deve passare di qua Poi Ok Proviamo ad usare un attimo ricerca strumenti per trovare qualcosa Ecco abbiamo trovato Qui c'è un oggetto Qui c'è un oggetto Ecco ho sbagliato Eh ma che problema Ovviamente se schiacciate A In alcuni posti Ovviamente Potete Potete Tranquillamente Eccolo Allora Qua siamo lontani ancora Vabbè Vabbè Comunque Possiamo dire Concluso il video Adesso qui esploro un po' Velocemente E ragazzi E' finito il video E anche se dicevo che non mettevo la musica alla fine la metterò Quindi L'avrete sentita per tutto il video E Alla fine posso metterla Quindi senza problemi E quindi ragazzi Da Superdego Killer E' tutto Ciao a tutti E al prossimo video Ciao a tutti